Sì, buongiorno, siamo qui al Rimini Wellness per presentare un nuovo prodotto, le chicche di natura a marchio Solarelli, un prodotto naturale, frutta solamente lavata, di prima gamma, caratterizzata da questa confezione, una confezione molto pratica perché può essere messa o nella borsa della palestra o nella cartella, quindi un prodotto che a 360 gradi può coprire dalle esigenze della merenda a scuola alle esigenze dello sportivo, una frutta naturale, ribadisco, di prima gamma, all'interno vi è una gamma di frutti rossi, andiamo dalle ciliegie, alle fragole, ai mirtilli, ai lamponi, a tutta una serie anche di nuove varietà di uve senza semi, uno snack naturale, sano, pratico, solo frutta all'otto integrata, proveniente italiana, proveniente dai territori più vocati, il prodotto sarà disponibile all'interno della grande distribuzione italiana, nelle aree prima delle casse, quindi nell'area avancassa, renderemo disponibili dei frigoriferi caratterizzati a marchio Solarelli, dove il prodotto può essere acquistato prima delle casse dove viene effettuato il pagamento della propria spesa.